Anfaccia a tutti ragazzi, qui cane lupo Aspettate Ecco, scusatemi se sto così Ma fa un caldo, ho la schiena Ah, si è scontrata un attimo qua Aspettate, mi sono accorto ora Aspetta Perfetto Ah, raga, ho la schiena Mi fa Oh, ma sta percora Ecco Esce, lo faccio così, esco Sto con pezzo Aspettate Ecco Ecco qua ragazzi, sistemato tutto Scusate, sto Non so il motivo per cui vedi a fastidio se faccio il game così Non l'ho ancora capito e non lo copierò mai Ma fa un caldo best Ragazzi, se preferite che vedi cosa la faccia Mi do così Mo dite Nei video prossimi che farò Comunque ragazzi, ben Ah, non vi faccio vedere lo schermo Tutto nero, vedete Bentornati a Road to Purificazione Parte Undici Sono Silver 2 15 punti Mi sono fatto due partite Uno ho preso 27 L'altro ho preso 12 Aspettate Voglio vedere se si vede tutto bene Ok, perfetto Il punto, raga È che Mi devo incominciare Porca Mi saremo un mincazzo Guarda sta web, raga Ok Il punto è che, raga Devo incominciare Oh Ecco Beh È che devo incominciare A farmi altre lune Perché Io tipo ora avevo E farei anche altri champion Avevo Renetton top Io ero il top laner Oh no, non so se c'è Renetton Magari Spero ora è Renetton E ho dovuto prendere Per forza fiera Perché è l'unico top laner Che poteva diciamo Tra virgolette Tra quelli che avevo Tra virgolette Reggere Renetton Reggere Tra virgolette Quindi Avevo Vladimir Però non c'ho le lune a P E Proprio in piano ce le faremo Tanto Alla fine armor già ce l'ho Manca Magic Resist L'armor delle siel già ce l'ho Mi devo fare solo le griff Ah ma c'è questo cazzo Amo video senza Magic Resist Cazzo ci frega a noi Giusto Che cazzo ci frega Mamma mia regà Voi non potete capire Quanto mi sto ammazzando Per farvi Trovare un video al giorno Perché Io non volevo lasciare il canale in attivo Anche se so che Comunque faranno pochi videosi video Non voglio lasciare il canale in attivo Non mi ha di caricarne Uno ogni due giorni Perché poi magari Come è giusto che può essere Deva Vabbè però Uno La vacanza se la può prendere Può due tre giorni Non carica un video Però io già l'ho fatta a luglio Che ho caricato un video Ogni due giorni E non mi andava di rifarlo Quindi Sto a fare tipo tutti i video a manetta Ogni cosa che faccio Video No ogni cosa no Comunque vi faccio trovare anche Qualche Rotary Challenger Mi pare che a sto punto Ne avete vista una E domani dopo domani Ne vedrete un'altra Quindi Sono 14 punti di diamant Eh no però Vi spoiler Ho spoilerato Ho rotto i Challenger Ma coglione Oh 71 83 DAD 83 DAD 83 DAD Ripeto Questo mi fa una doppia boom E sfonna Ah no me sa la culo No me sa la culo Oh Oh Coglione Perché Era morto però Lui ha detto Io ho flash Vabbè buono L'abbiamo flashato in due Poi l'ho flashato Però ora lui c'ha l'ignite Quindi deve stare molto attento Contanto che la fa sblood Ma è pure estillata Sto coglione No non so se l'ignite O il TP Renetta L'ignite Lo sta pure attento Anche di Jarva Comunque posso dire Che Nel silverelo Un buon pick È Yasuo È una cosa assurda Raga Infatti io credo Che me lo comprierò O me lo shopperò Non so Perché ho 520 RP Volendo me lo potrei shoppare Se faccio altri 400 RP Però non ho soldi I can't Ah no oggi Però succede Tanta parte va in saldo Lo posso comprare Stammai Yasuo tanto Le rune per Yasuo ce l'ho Al limite Le rune va più Aspetteranno Se vanno a mid Andrò a mid con Con Yasuo Quindi non servirà Nel silvere Stasucchiacchico Vediamo se Oh Andiamo qua Ah lui ha iniziato pure Ah no Si è fatta pure A gruttare Devo stare molto attento Perché ho due Allineate Quindi in un eventuale trade Io ci perderei E' meglio andare dietro Fa così A metti niente Per prendere l'ex Basta Giarda Che sta a fare? Ora lui non sa che io sono ancora qui Tanto prendo l'ex Bossa bossa Vuole tanto prendere il cannone io Lo prenderò E dai Cannone Lo prendo Prendo 100% il cannone Guarda la farm Mamma mia Regà Ho fatto uno sforzo gigantesco Per prendere quel cannone Voi neanche potete che immaginarvi Ho fatto Non sapete neanche Che la passiva di Fiora Oltre che c'è la donna split La passiva di Fiora E' che tipo Dopo 8 attacchi Prende il terigeno No My bad regà Ho sbagliato io Così Così ho qualche pozione Era inutile farsi il Vampire Shatter Molto inutile Non avrei letto La Nying Phase Se mi fossi fatto il Vampire Shatter Perché Ho dovuto comprare Don't play the Vampire Che poi c'ho solo le Steel Però chi è che c'è Treddava contro lui Allora è meglio Come facevo vita Longsword Scarpy Così mi stacco anche La passiva della E mi pare Perché quando Non si E non mi riesce a prendere C'è una Draven Gliel'ha stillata Morto? Vigare Intanto Se feed è buono Ora se riesco a feedarmi Anch'io però Lui ha il 6 Io non ho il 6 Ma lui non ha l'Ignite Attenzione Neanche il Flash Quindi ora il trade Lo devo fare io E anche subito Visto che non ha l'Ignite Devo subito Treddare Appena arrivo Lo sfondo un pochetto Guardate Faccio venire lui Non può assolutamente Nulla Certo Magari Non dovrebbe usciare Voglio Voglio Quanta armor C'è però Beh è una bella Qu Bravo Fesso Can I get Blue È fatta Regà Guarda Questa è un'uscita Ho preferito Dalla killa jargon Però Ho fatto una cazzata io Ho sbagliato io Assolutamente sì Non gli faccio danno Pensavo di fargli una morte di più Invece Non gli faccio danno Quindi anche con un trade Se non fosse venuto jargon Ci sarei morto Sto tankato pure troppi minion Poi era botte quanto fitta Dio de mio Mamma mia Eh lo sapevo Purtroppo non c'ho i champion Nelle rune per canterà Renekton Poi quello ma se l'avessi preso Quella force blood Forse sarei stato Un po' più avvantaggiato Gli paradissima No, guardi Purtroppo, guardi Ho sentirmi Ah già Sto riccanto Troppe volte però mi scrivete in game raga Non me dovete scrivere, per favore, me dà il cazzo, non lo so perché Non so a farmare manco un cazzo Ma in realtà non sto pensando neanche a farmare Lui pensa a cercare di kill a lui, ma ora non lo butto tipo più giù Mi devo fare la Tiamat Mamma sto arriccando Aspetta, mo chiudo la porta, ragà, aspetta Potresti chiudere la porta, ma che sto arriccando, per favore Non me senti Potresti chiudere la porta che sto arriccando Eh, rispondimi, però Dat team C'hai ragione, io sto giocando a merda L'unico che sta giocando decentemente è Veigar e pure Lee Sin Sto giocando a merda, regà, non so il motivo, ma sto giocando a merda Poi questi sono silver, no, sono silver gold, sto giocando a merda Non riesco a capire neanche perché Non riesco a capire neanche perché Eh, cerchiamo di rilassar se ciò va meglio, tanto Driven si riesco a fidarmi io allo shot Leite C'ho troppo i minni a lui C'ho troppo i minni a lui C'ho troppo i minni a lui In confronto a me C'hanno due torri, c'hanno il drago C'hanno due torri, c'hanno il drago C'ho troppo i minni a lui Ma... ero fuori dall'ingesto, però no 15 secondi O me lo guida Vaffanculo, ha lì Perché c'è Drissana qua? La gali è sgrava Can you call SS Leighgar, Lisa? Non ha niente Drissana, Treddorans Guarda botta che situazione del cazzo che stanno VEGAR è stato sempre migliore È sceso una volta botta ma non fa niente Renekton sta al 9 Al 10 Guarda fino a dove cazzo è scesa quel min Madonna questi c'hanno troppo Troppi cazzo c'hanno questi Allora Io sto all'8 quello tra poco fa l'11 Se vede che lui ha preso l'Akille Credo Però dovrei aver preso anche io Sto gioco veramente del cazzo vabbè dai cerchiamo di riprendeci Non ci abbattiamo Non ci abbattiamo raga Sto all'8 Sto all'8 Eh purtroppo Renekton già sgravo dei suoi Poi non prendi un champion con cui puoi presto i cantori Oh ma questo qua già Dovano via E' questa è una cosa che non dirà da O Non c'è Sì C'è una cosa che mirore Questa è la forza per averneggado No, 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 no Li potava venire tranquillamente prima Perché gli era stellata? Ma scusa, io ho preso l'assist e non ho fatto il livello, lui ha fatto il livello Questo Giorvane è un po' indicappato Quindi questa si potrebbe ancora vincere Se Tristana riesce a fidarsi un po' Che c'era la BF? Buono Fa tanto indicappato, mica tanto Perché alla fine mi volevo la file bait Ora mi viene la stella all'ex perché non me lo so abbassassi Ma why kick him away from me? Cioè lo poteva ammazzare, potrebbe salvarmi Ma in realtà Lui ti ha detto Kickiamolo via No, I'm in Italia I don't know how to speak Allora Sarebbe Why did you kick him away from me? Ma è un cazzo Io parlo come cazzo mi pare Allora Sì, tre top Dai 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 Vegard Sì ma Vegard si sta facendo le canne Ho capito che sta andando a botta di aiutare I don't know Fan c**o, puttana Ha flashato pure comunque Buono sto all'undici Lui sta all'undici Ora lui farà il dodici Ok però già che l'ho raggiunto Lui era un ottimo altro guardo Ora mi faccio Brutalizer Poi mi faccio Il Last Whisper Mi serve tanta armor pen Se no non riesco a A fare un cazzo Ma con questa c'ho 10 armor pen Forse nei rune c'ho qualcosa Nei masters c'ho qualcosa Quindi è un buonoso Armor pen 10 e 16 Questa è il 10 e il 6 di level masters Credo Quindi 16 armor pen Trista nice far Nob Tu ce n'hai 27 l'isina A me non mi pare che stai molto avanti Ma l'isina non si è chiusa neanche Le teme da gianni Gia ha detto C'ha pure ragione Fatti l'intensità al 12 Immaginavo che lo facessero Non lo staffa schifo al cazzo Non è vero Pensavo a staffa staffa Invece 2-5-4 Veramente Pensavo tipo Che stesse 0-4 Donna che pigna Che gli ha tirato dritto Perché non usi la guna Ma le si inchicasse qualcuno Nel mentre Lulù è tarda Molto tarda Tanti ho bottenuto le ciotere Non posso difendere Vado a difendere Dori al nezzo Sguagliano continuando No infatti non continuo Ah Lui ha preso la first blood Quindi Eh Non affida Eh Lulù purtroppo Credo che si Cioè Lulù sta giocando Veramente male Non riesco a capire Cioè fa degli errori Proprio stupidi Cioè Stavo male Sì Allora Non è che non sta là Ma posso fare la dora Vai Che ha 171 Che docca pusha Lui c'hanno troppe dori In confronto a noi Manco con la bot Cioè abbiamo una mid Una top Vai però Prendiamo questa Per portare un po' di push Ma Non si servirà assolutamente a noi Va bene Così Meno mi so preso La torre Ai Tocco 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 PAUSHA PAUSHA Oh, come on PAUSHA 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 Ma guarda dove si sta muovendo... che cazzo? Insomma qua devi essere proprio... TARDOSPASTICO Pure... pure... cioè Jarvan pure è TARDOSPASTICO per la musica Ma mancano 20 volt Ma mancano 20 volt Qua PAUSHA 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 Buono buono c'è il drago c'è il drago c'è il drago Ora ho la Last Whisper Eeeh Le scarpe... ma si è VEBRE però PAUSHA 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 Capire cosa dovrei farmi per cercare di... C'è a me comunque vada me shottano loro Non so neanche tanto fidato mi conviene... Boh Non so cosa mi convenga fare Non passa per là Ma... Questi ci vengono al SORT software Io... Sono andato contro tutti Loro... Stavano là senza far niente Bravissimo Ma magari... The comeback! Vabbè non ce l'hai lo su Paccato Questo è proprio scarso! Fammi vedere un attimo Ma sapete io come faccio io? Ma andiamo come i nabi di merda facciamoci l'anger Così è Focuse ma io rinasco e basta Guarda il bot accennatore Vabbè Vanno push a me ma... Prendo... Take bot Io gank me Non possono andare... Non possono prendere quella per me Se prenderessero quella bot Ho già qualche soldo che entra tutta il team E... Un po' di push Ma questo vuolestila farm? Ma è comunque ovale Ma la vita Questa è un'otto L'agrità Questa è già Sperdescidio Questa è che Questa è un'ottima Ci vengono Ma è un'ottima Questa è un'ottime È un'ottima C'è un'ottima Questa è un'ottima Questa è un'ottima Questa è un'ottima Merda, questo non ci vuole merda Voglia che danni No, 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 per favore, per favore E questi qua che cazzo ha visto? Se vi dicessi che non ci stavo a guardarla My bad, maggiormente quando guardo l'arte Buonissimo Vhagar Un po' spiegata la ulti, però veramente Vhagar sta facendo un ottimo lavoro, mi sta cariando, gg Vhagar ci sta cariando Compreso a me perchè ho fatto totalmente schifo, cerco di ribaltare l'ultima situazione, però sto a fare una cazzata dopo un'arte Non so, oggi sono strano Pure col main ho fatto qualche cazzata Oggi sono strano Vabbè Gavida quando qualcuno, qualche porta è strano, succede Perchè con lo smurf, al dire il vero non mi preoccupa neanche più di tanto Non anche non mi impegno, non voglio dire che non mi impegno, voglio dire che... Se perdo, non so come sul main Cioè non me ne frega un cazzo se perdo Porca troia, quanto è brava questa tristana pure, però Ho trovato un team che mi stankeria Vabbè 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 Sì, è vero, smontiamola, smontiamola. Io la gaggia ce l'avrei, però voglio solo far manò. Sì, ma sei stupido. Mammi tu cosa? Sì, ma tu hai la giungla, ma che sei spastico. Questa è andata a volta al bar, quasi mi piace. E ora che ho la gaga, faccate scelte. Ora che ho la gaga, mi faccio la cosplay. Ma non c'ho bisogno di scappare, cazzo, mi frega tanto. Poi c'ho la roba cosplay, c'ho la roba cosplay, ho detto questo. Ho recuperato molto grazie ai miei teammates, cioè hanno fatto tutto loro. Io dopo onoro veigar, perché anche Tristana sta giocando benino, ma se non ci fosse stato sto veigar non avremmo avuto questa possibilità di vincere. Ma perché non mi ha aiutato? Vai, te ti fai ulti. Oh, ecco il DJ fina. Eh, abbiamo fatto questo, vai. GG quel pede, regà. Sono stato carriato, punto e basta. Ma perché non ultima mai? Mi farò dal culo sta cosa. Non ultima mai. Faccio questo, va pure, se il cazzo mi frega. Come le faccio? Poi non ci sarebbe pure questo. Il drago pure. Master tower, take it, take. Ma come faccio il drink rosso? Mi serve questo. Era meglio prendere il drago, come so. Allora. Ghostbade. Dopo la ghostbade, volendo, mi potrei fare anche la infinita. Ma come fa a farlo da solo? Magari vediamo che c'è. Non può. Non può. Sto pushata top, almeno così. Diciamo che gli impedisco di far baron, perché loro sono molto suggestivi. Dicono, tipo, no, top pushata, non possiamo farci un bar. Tipo, questi passi qua, non si sa il motivo. Tra poco Driven c'ha la Angel, a me ancora due minuti per i boni, vi vedo qua anche. Devo essere veloce. Devo essere fina. No, 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 no. No, 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 no. Sì, ma no, 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 no. Se vuoi pushare, pushha questi. Ma se è venduto a far baron, infatti. Ma... Oh, ce la fanno. D'agglielo l'ultimo colpo. Gli lo diamo l'ultimo colpo? Oh Mamma mia E ora si prendono il Baron Easy Baron for them Ecco Potranno fare il Baron Tranquilamente Quello e queste sono un po' le cazzate Che magari in bronzo si fanno In bronzo silver Pure in goal Ma come te gli sono andato presso Ma gli dici pure no Da Op Uh Grazie a tutti. 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 Oh... Ma possiamo finirla? Oh... 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 Oh...